Chi non è in bicicletta, ti spero, c'è quello che stiamo a parlare, è il popolo. Ebbè, sono state molte canzoni, molte canzoni degli anni 60, all'inizio degli anni 70, però specialmente alcuni autori, uno di questi è stato uno dei più grandi, Umberto Ditti, il sito del Gattino. Guarda, io purtroppo non ho conosciuto Umberto, però quando senti che gli avevano migliorato un pianoforte, andai a comprare un pianoforte nuovo e lo mandai. Solo che mentre il pianoforte viaggiava verso Umberto Ditti, Umberto già stava viaggiando verso il sito. Quindi questo pianoforte praticamente non è mai arrivato, e poi lo donavano ad un'associazione di centri. E' un'associazione di centri. E' un'associazione di centri. E' un'associazione di centri. A canto a te, a canto a te, a canto a te. A canto a te, a canto a te, a canto a te. A canto a te, a canto a te, a canto a te. A canto a te, a canto a te, a canto a te. A canto a te, a canto a te, a canto a te. A canto a te, a canto a te, a canto a te. 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 A canto a te, a canto a te.